E come ti sei trovata col corso? A me è piaciuto molto, è molto bravo Aurelio, devo dire la verità, cioè è bravo a insegnare soprattutto a una pazienza costruosa e se uno ha dei dubbi lui ti aiuta per farti capire. Sì, 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 lui è molto bravo perché a me è piaciuto molto il fatto che lui abbia mandato gli esercizi da fare, quindi mi sono un attimo data da fare nel provare. Ho provato tutto quello che volevo, lui mi ha mandato anche le slide, quindi io potevo anche, poi guardando i video, capire, facevo le cose in simultanea. Dico, io sono abituata così, provando e vedendo dove c'era l'errore. No, il corso a me è piaciuto molto. Però dai, da parte, insomma, diciamo che l'interazione comunque anche a distanza è stata mantenuta. Sì, 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 assolutamente. Insomma, se vedi i dubbi delle robe così, ho visto che anche tutti gli altri mi hanno detto che comunque non gestivano tranquillamente. Niente da dire, no, proprio niente da dire. Anico Niente da dire, no, proprio niente da dire. Grazie.